Allora, è un passaggio del mondo, dell'apparenza al mondo della realtà. Ecco la preghia vedica, vero? Significa questo, conducemi dalla regione della tenebre alla luce, dalle menzogne alla verità, dalla morte all'immortalità. E questo è lo scopo, però per questo bisogna fare una strada. All'inizio faticosa e poi diventa gioiosa. Quando non moriamo, ciò che lasciamo è questo corpo grossolano che pesa tanti chili. Quello lo buttiamo in terra. Però nella nostra ignoranza spirituale noi pensiamo che non siamo quello. Allora, io muoio. Tutto è perduto. Niente è perduto. Le scorie sono perdute. Il capotto grossolano che tu hai indesciato durante l'inverno è buttato via. Tu sai più leggera, perché la mente continua a funzionare. Grazie. 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 Grazie.